Caffè Treville, bar, ristorante, pizzeria per ogni momento della tua giornata, dalle prime ore del mattino con le sue colazioni, ideale per pranzi veloci o per le tue pause pomeridiane. Caffè Treville alla sera diventa pizzeria-ristorante, con piatti di terra e di mare di ottima qualità, dove potrai organizzare le tue cene, le tue feste tra amici, in famiglia o aziendali. E al sabato diventa punto di riferimento per gli amatori del karaoke, per trascorrere una serata tra buoni sapori all'insegna della musica. Caffè Treville, bar, ristorante, pizzeria-ristorante, pizzeria-ristorante.